Roseto riapre e l'hashtag lanciata dai ristoratori, titolari di pub, pizzerie e di palestre che domani sera daranno vita ad una manifestazione pacifica per ricordare a tutti che loro esistono, che da un anno sono chiusi, dimenticati, non hanno più dignità e che hanno un solo modo per farsi sentire aprendo simbolicamente le loro attività. Non saranno serviti piatti preparati né bevande da sorseggiare ma ogni titolare di attività accenderà le luci del proprio locale, esporrà il cartello e scatterà una foto che dovrà poi essere pubblicata sui canali social. Facciamo vedere a tutta Roseto che ci sono delle attività che in questo momento hanno le luci spente e sono morte. Noi esistiamo, combattiamo nonostante tutto e ci siamo. Vogliamo far vedere domani sera che noi siamo presenti sul territorio e abbiamo bisogno di un grosso aiuto. Quante sono le attività? Circa un'ottantina di attività tra palestre, bar, pizzerie, ristoranti e ci sono anche tanti rappresentanti che ci appoggiano perché la situazione è grave. Siamo al limite delle forze. Vi aspettate una larga partecipazione? Sì, sì perché abbiamo dei colleghi che ci hanno detto facciamo, muoviamoci perché, ripeto, siamo alla canna del gas. La situazione per tanti è drammatica. La pandemia è stata devastante. In molti stanno pensando di non riaprire più il proprio ristorante. Vedere sedie alzate sistemate sui tavoli per molti rappresenta una vera e propria pugnalata. Un colpo di grazia inferto appunto dalla pandemia ma anche da un sistema che non è riuscito a tutelare. Una categoria che rappresenta uno dei fulcri dell'economia di un intero territorio e l'asporto non è certo una soluzione per poter andare avanti. Sono 14 mesi che siamo chiusi con ristori che fanno ridere, specialmente l'ultimo e non ce la facciamo più. E tu per fortuna non hai un mutuo, il locale è tuo quindi non hai un affitto da pagare? Sì, fortunatamente questo locale esiste da 16 anni però andiamo in difficoltà perché le tasse e le bollette arrivano tutti i giorni. Lo scopo della manifestazione di domani che prenderà il via intorno alle 18.30 è quello di sensibilizzare tutti, la speranza degli organizzatori e che ci sia anche una larga partecipazione e un coinvolgimento quasi totale. Grazie a tutti.